Grazie a tutti. Anzi, buon sabato da Urogo di Piuro. Conosce Urogo di Piuro? Impossibile! È un posto stupendo, meraviglioso. Devi venirci. Siamo a Santa Croce di Piuro. Ci siamo già stati. Perché non potendo uscire dai confini del comune, devo anche tornare in posti che ti ho già mostrato. Però qui ci tenevo, ci tenevo a tornare. Perché la chiesa di San Martino, dove siamo ora, è bellissima. È una delle mie preferite. È di epoca romanica, undicesimo secolo. E di quell'epoca rimane il campanile a cinque piani di finestrelle bifore. La parete settentrionale è una parte di quella meridionale. E rimangono anche gli affreschi, preziosi, del Valagussa di Civate. Raffigurano scene del Vangelo di Giovanni. Il perdono dell'adultera, il guarigione del cieco nato, l'entrata in Gerusalemme e la risurrezione di Lazzaro. Ma che a me piace moltissimo di questa chiesa è la pala. La pala dell'altare, dedicata a San Martino. È cinquecentesca e raffigura appunto San Martino, che taglia una parte del suo mantello, il pallium, e lo dà al povero. È molto molto bello. Sono anni che vengo qua e mi fermo sempre incantata a guardare questa pala. Mi piace tantissimo. La chiesa è poi stata ingrandita nel Settecento. E poi è stata sottoposta a restauri, degli affreschi di cui ti parlavo, negli anni Settanta. E alcuni sono in corso anche in questo periodo. Ti invito quindi amico di Facebook quando potrai fare una visita a San Martino di Aurogo. È una chiesetta particolare. È qui in mezzo ai castagni. Santa Croce è terra di marroni. Sono piante secolari. Bellissime. E quindi è, diciamo così, un angolino a sé. Ciao amico di Facebook. Buon sabato da San Martino di Aurogo. Baci, baci, baci. Buon sabato da San Martino di Aurogo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.